Eccoci qua e benvenuti alla presentazione del corso Pasticceria Lievitata. Pasticceria Lievitata è il mio percorso formativo dove ti insegno a realizzare piccoli, medi e grandi lievitati. Questo corso è stato ideato in laboratorio con tecniche professionali ma che puoi realizzare anche se sei un appassionato e vuoi realizzarlo per uso domestico. All'interno del corso Pasticceria Lievitata vedremo tantissime tecniche, tantissime lezioni pratiche, teoriche, vari approfondimenti, vari libri e la mia assistenza. Ho fatto stampare questo foglio proprio per spiegarti un attimino cosa c'è all'interno del corso, nel dettaglio, per farti vedere la ricchezza di questo corso ma soprattutto la sua unicità. Allora, all'interno di Pasticceria Lievitata troviamo tantissime lezioni pratiche e teoriche. Ad esempio, le lezioni pratiche troviamo come fare il burro piatto per un appassionato, perché è stato ideato con l'idea di rivolgersi a tutti, tutti gli appassionati ma anche tutti che hanno un laboratorio, una pasticceria o un forno. Perché? L'ho ideato con sfogliatrice professionale in laboratorio, forni professionali, però se sei un appassionato ti mostro anche come idearlo a casa. Quindi, all'interno del corso troviamo le basi della pasticceria, come fare il burro piatto, il cornetto di base, come ottenere una stratificazione perfetta, la crema pasticcera con la panna, l'approfondimento teorico sulla crema, il croissant bicolore. Croissant bicolore, panna cioccolà e speciali. Speciali sono altre forme che si possono realizzare col croissant bicolore. All'interno troviamo anche l'impasto leggero per creare, ad esempio, saccottini al cioccolato e girelle e uvetta alla crema, il crans, quindi con pasta sfoglie e pasta brioche, con crema e uvetta, il panna cioccolà, con tecnica con pulisce, il pulisce e creeremo panna cioccolà e croissant. Il pulisce o un impasto, diciamo, come se fosse un lievitino liquido, per uno sviluppo nettamente migliore e anche una profumazione migliore. Poi vedremo il bombolone alla moda romagnola, quindi come si fa in Romagna, e la pasta sfoglie, le varie declinazioni, come poter fare, ad esempio, la bresciana, la palmette e le sfogliatine di mela. Vedremo i danesi, che è semplicemente un impasto ricco, con varie forme, le stelline, varie forme, dopo vedremo nel corso. Vedremo la veneziana con craclenne, la veneziana con crema da forno e microonde, la veneziana classica. Cornetto fritto, cornetto rocher, già vedi queste lezioni, sono lezioni che trovo all'interno del corso e sono pratiche. Poi all'interno troviamo approfondimenti teorici e tecnici, non solo per copiare la ricetta, ma per essere padroni dei concetti, per poter capire come bilanciarla e crearla da sé. All'interno troviamo la funzione degli ingredienti, ad esempio, come creare una ricetta da sé, parleremo di levitazione, di temperature, di differenza tra impasti magri e ricchi, la cottura ai prodotti in forno, l'alveolatura. Veramente tantissimi approfondimenti, ad esempio, i miglioratori, consigli se sei le prime armi, le impastatrici e il calore generato, i metodi di lavorazione, diretta, indiretta, posticipata, la conservazione e la conversione dei lieviti. Insomma, tutto per essere veramente padrone di questa materia. Troveremo altre lezioni pratiche, quindi panettone gastronomico con metodo rapido e un impasto salato diretto, cioè per creare croissant, saccottini, prosciutto crudo, cotto, girelle, tutti i prodotti salati. All'interno troviamo anche, con lievito madre, abbiamo fatto il cornetto con lievito madre e forma di ferro di cavallo, levitazione mista. Con lievito madre troviamo solo lievito madre, il panettone, panettone natalizio e le varie cotture, varie spiegazioni tecniche. Oltre questo troverai anche la creazione e la gestione del tuo lievito madre, quindi come crearlo e una volta creato, in base a come lo vuoi tenere, come gestirlo. Quindi, se lo vuoi tenere in acqua, ti spiegherò come fare nel sacco libero e liquido, lì colì. All'interno ho scattato varie foto in laboratorio per farti capire le differenze e la sua gestione, quindi sia in breve, lungo periodo, bagnetti, rinfreschi, riposo serale, insomma un po' tutto quello che devi sapere. Abbiamo altri approfondimenti che ho inserito in piattaforma, la fermentazione lattica, acetica, alcolica, capire le differenze, quindi come sta il mio lievito. Le varie fasi per capire come lavora un lievito, le caratteristiche della pasta madre, come trasformarlo in una ricetta, se ce l'abbiamo solido o liquido, e capire come trasformarlo. E poi abbiamo, ho inserito anche un paio di lezioni del croissant con lì colì, o lievito madre liquido, la colomba con lì colì. All'interno, veramente come avrai capito, ci sono tantissime lezioni, sia pratiche che teoriche. Queste lezioni ti rendono capace non solo di prendere una ricetta, copiarla e a realizzarla, ma ti rendono capace di capire, ma soprattutto di crearla come vuoi tu ed essere padroni della materia. Quindi, sicuramente un livello differente che copiare semplicemente una ricetta. Online e in rete di ricette ce ne sono tantissimo, tantissime. Quello che bisogna imparare sono le tecniche e i metodi. All'interno del corso troverai anche bonus. Bonus e cosa sono? Ho inserito vari miei libri, dove all'interno, ad esempio, troverai il libro delle brioche, il libro del corso, sia in formato di base che avanzato, unito. E le ricette poi le ho ricalibrate in versione più piccola, già calcolate per un appassionato per uso domestico. Quindi troverai sotto ogni video lezione la ricetta singola, per uso di laboratorio, per creare un pastone, per sfogliarlo, sia la ricetta più piccolina, invece, per chi è un amatoriale. E quindi è anche ribilanciata in maniera più semplice. Poi troverai il libro del come fare il salato da forno, quindi tantissime ricette sulle piadine, le pizze, le focacce. Il libro delle basi, quindi tutte le basi della pasticceria, la frolla, la sfoglia, il salato e tantissime basi di pasticceria. Le meringhe, il gelato, veramente tantissime basi. Il libro dei biscotti, quindi un libro contenente tante ricette e sempre ogni mio libro ha quasi sempre la foto finale del prodotto fatta in laboratorio. Il libro dei cake, dei muffin, delle ciambelle, il libro dei macaroni, il libro delle torte dolci speciali, che sono torte, ad esempio, drip cake, quelle un po' più alte, quelle decorate, insomma, molto molto belle. E poi abbiamo il libro del cucina e pasticceria del benessere, che è stato il mio primo libro che ho scritto, dove ci sono sia tutte le basi di cucina, ma soprattutto è incentrato sul senza glutine e senza zucchero. Un po' per capire come funziona il senza glutine, un pochettino anche il senza zucchero, come poter sostituire lo zucchero in ricetta. All'interno, non abbiamo ancora finito, all'interno del corso troverai ricette extra, quindi esempio il panettone non troverai solo la ricetta classica, ma la versione ricca, il cioccolato, il pistacchio, vari lievitati, varie ricette di colombe che mi hanno accompagnato in questi anni, ricette del pane, della pizza, delle focacce, la pasta sfoglia base, i fritti, veramente tantissime, tantissime ricette, video lezioni, sia teoriche che pratiche. Insomma, ti ho fatto capire che all'interno di questo corso la sua unicità è che è molto ricco sia di lezioni pratiche che teoriche. All'interno quindi trovi lezioni pratiche, lezioni teoriche, tutti i libri dell'academy, tutte le ricette extra, ma la cosa che in assoluto è il valore, la sua unicità e la mia assistenza. Sotto ogni lezione, tu scrivendo un commento come se fosse un social normalissimo, potrai iscrivermi e io ti risponderò se hai qualche dubbio, problema o perplessità. Questa è la novità che, diciamo, sta piacendo molto perché all'interno della piattaforma puoi iscrivermi. Bene, quindi ti ho spiegato un pochettino come funziona il corso. Sotto qui o sopra, dipende dove guardi questo video, troverai il numero assistenza per parlare anche con un mio assistente. Se hai qualsiasi dubbio, problema o perplessità, puoi contattare e semplicemente ti risponderanno. Se invece vuoi direttamente iscriverti, qui sotto troverai un link, troverai un tasto, puoi direttamente accedere in piattaforma e ci vediamo dentro. Ad ogni modo, qui sotto trovi un'offerta. Per qualsiasi domanda puoi contattare il mio assistente, puoi trovare il numero sia qui sotto che nel mio sito. All'interno del sito ci sono anche varie testimonianze che stanno caricando i miei collaboratori. Puoi trovare quindi le testimonianze dei miei corsisti in maniera onesta di cosa pensano dei miei corsi. E quindi se io ti posso essere d'aiuto e vuoi che sia io a insegnarti la pasticceria. Ad esempio, in questo momento abbiamo terminato il nuovo corso anche pasticceria da forno. Farò un altro video per spiegarlo. Quindi è un'accademia dove inserirò in questa accademia tantissimi corsi, sia lievitata, sia forno, moderna e in futuro anche corsi di cucina. Quindi tutta la mia esperienza all'interno di un'academy online che puoi vedere 7 su 7 quando vuoi per il tempo di permanenza del corso. Quindi in questo caso nella versione full troverai un anno di assistenza. Quindi puoi vedere le recensioni, puoi chiamare il mio assistente. Per qualsiasi dubbio, problema o propensità io sono qui, mi puoi contattare. Quindi ti ho spiegato un attimino come funziona la pasticceria levitata e ci vediamo quindi all'interno del corso. Ciao! 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 Grazie a tutti.